Grazie a tutti! Buongiorno nonna, sono qui con gli amici. Buongiorno. Mi fa piacere, ciao Giovanni, e accomodatevi. Io ho provato una pasta napoliana, ho messo le veneziane, le patate, i pomodorini dell'orto e l'olio buono che ha fatto il nonno. E adesso ve la faccio assaggiare. Se venivate ieri c'era la piella. E' un peccato sì perché era buonissima. Avete fame? Buonissima. Vi posso fare il piatto? Sì, grazie. Grazie. Le patate, le veneziane dell'orto, i pomodorini. Grazie l'olio, va bene. E l'olio buono. Come vedo signora, ha messo pure delle patate? Sì! Sì! Guarda che è un grandebookscante da me. Allora si camminano. Guardi, l'altra alternativa è il fast food, quindi abbiamo preferito i prodotti tipici, locali, freschi, Perché non siamo andati a mangiare? Dai, a me stiamo insieme, andiamo a fast food, manciamo una cosa insieme. Perché è fast food? Lì sono piene di grassi, poi c'è la carne, no? Tutta è piene di conservanti e poi la prendo. Poi le salsine. Quindi davvero voglio andare con Giacomo? Sì. Vabbè dai, allora a prossima volta ci andiamo. Vi serve proprio spazzolaggi tutta! Mi è piaciuta! E adesso? Nonna, cosa ci hai preparato per secondo? Eh, vi ho fatto una sorpresa! Eh, ciamato! Ciamato, ciamato e caprone. Fatto al spezzatino. Fatto con il sugo, con i pomodorini. Eh, Nonna, facci assaggiare! Va bene, ma adesso? Questa è una predipatezza. Sì, è ottimo! Già dall'odore, già si sente che... È buona! È buona! È buonissima, Nonna! Poi c'è le insalatine che ho comprato giù a Mola. Sì, è buona! Sì, è buona! Se la vendiranno i nostri amici? Sì, è buona! Sì, è buona! Sì, è buona! Mi fa piacere che... Che grande! Mi faccio assaggiare una specialità colmiana. Sono i maccarelli. E che cosa sono i maccarelli? E' una specie di rustici fatti con il mais, l'olio, il vino e un po' di sale. Buona! Buonissima! Buonissima! Sì, è ancora la preabilità! Mi fa piacere che vi vedete! Ragazzi, c'è il dolce con un biscotto di cicerone. E' un'antica ricetta romana. C'è il miele e la putta secca. Buonissima! Ottimo! Guarda, mi dai un po' l'anzone di piccoli. Quella di Formia? Sì! Formia, 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 Seguiste il tramonti e madre. Perchè non è un'antica ricetta? Perchè non è un'antica ricetta? Sì! 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 Sì!